Ciao a tutti, benvenuti e bentornati nel mio canale, io sono Arwen ed oggi, ebbene sì, oggi cominciamo un nuovo videogioco. Questo videogioco si intitola, scusatemi prima di tutto con la pronuncia, Shinobi Kakuran Musou, che dobbiamo leggere il prologo. Ora, lo state vedendo in questo preciso istante e praticamente leggiamoci la trama. Un giorno dopo essere stata assalita da un misterioso gruppo di uomini mascherati, la protagonista viene a conoscenza degli intrighi del nemico. Per proteggere i suoi amici e il suo villaggio, si traveste da uomo e decide di entrare nel territorio nemico. Spero che vi piaccia, ora ovviamente non giocherò, non farò nessuna scelta premium, quindi non userò le gemme, perché per evitare magari di aver problemi. Io direi subito di cominciarlo, banda le ciance! Nella notte, durante la quale persi persino gli insetti dormono, le voci di due uomini risuonano nel silenzio. «Dunque, hai saputo qualcosa?» «Non si sono mica scoperti!» «Cavoli, non rimane altro che rischiare!» «Ah, diciamolo subito al capo!» In quel momento l'uomo viene interrotto da un rumore proveniente da dietro, accompagnato da un movimento dell'aria. «Ma che diavolo?» Voltandosi indietro, vede un uomo mascherato alquanto sospetto. «Beh, non è solo un uomo mascherato, qui è anche una specie di mostro, cos'è?» «Questo non sarà mica...» «Ehi!» L'altro si guarda intorno e rimane senza fiato. Ecco che dall'oscurità, come se stessero fluttuando, compaiono diversi uomini, tutti mascherati. «Ma quando...» «Questo non parla?» «Quegli uomini sguainano le spade senza far rumore!» «Ok, ha uccido qualcuno, cos'è?» «E poi il silenzio è di nuovo calato!» «Certo, l'hanno fatti fuori e ti credo che è calato il silenzio!» «Non parlano più, sono stati uccisi!» «Ci troviamo nell'epoca della rivalità feudale, un'epoca piena di eroi!» «Le lunghe battaglie hanno causato l'annientamento e l'unificazione nei vari paesi e si è arrivati a formare due grandi nazioni!» «Una è una terra dell'eterna estate, il paese d'estate» «E una è una terra coperta di neve e ghiaccio, il paese d'inverno!» «La guerra che ha diviso il mondo in due!» «Ha ulteriormente intensificato il voler creare gruppi militari chiamati shinobi» «Avrebbe dovuto essere una battaglia infinita!» «Tutto era iniziato perché le abilità dei soldati del paese d'inverno si erano improvvisamente rafforzate!» «Allo stesso tempo, improvvisamente un'epidemia di causa sconosciuta si diffuse nel paese d'estate!» «Cosso evento inspiegabile aveva fatto crollare l'equilibrio di entrambi i paesi in un sol colpo!» «La malattia si scatenò rapidamente nel paese d'estate e si era così aggravata che il paese non era riuscito più a difendere i compini!» «E infine, arrivando ad uccidere il monarca e la moglie, il canale di comando è crollato!» «E prima che passassero sei mesi, con la vittoria del paese d'inverno, la battaglia si concluse!» «Da allora sono passati quattro anni!» «Ah! Benvenuti! Oggi abbiamo del buon pesce fresco, quindi non lasciatevelo sfuggire!» «Wow! Ehi, non correre che cadi!» «Sotto il dominio del paese d'inverno, giorno dopo giorno si è tornati alla vita normale!» «E la gente ha iniziato a vivere una nuova era!» «Hai sentito di quella voce?» «Sì, dicono che sia colpa di quelli del paese d'inverno! Imperdonabili!» «Esatto! E si dice che gli shinobi del villaggio del fuoco si vendicheranno del paese d'inverno!» «C'era da aspettarselo dai nostri shinobi! Sono proprio le ali!» «Ma che diavola ti stai dicendo? Da quando è finita la guerra, in giro non c'è che gentaglia!» «Che rimanga tra di noi? Molti shinobi sembrano sparire nel nulla!» «Ma dai, davvero! Che gli shinobi vengano rapiti è strano!» «Gli shinobi del fuoco appartengono al paese d'estate! È da diversi mesi che questi shinobi stanno inaspettatamente sparendo uno dopo l'altro!» «Essendo shinobi è normale che muoiano durante una missione, ma è raro che facciano sparire completamente le proprie tracce!» «A detta di coloro che hanno intravisto nei villaggi vicini gli shinobi che erano spariti!» «Quetti sembrano proprio delle altre persone!» «Ah, ok! Hanno uno sguardo vacuo! Dicono cose senza senso! E hanno perso completamente la memoria!» «Ultimamente poi si dice che c'è uno strano gruppo di assassini mascherati! È proprio un casino! Da aver paura a uscire di notte!» «Ma infatti... Ehi, dammi un'altra tazza di tè! Anche a me?» «Certo!» «Il mondo è diventato improvvisamente turbolento e la pace temporanea sembra che stia aggiungendo al termine!» «Una debole luce tremola nella stanza nascosta sottoterra! La parete si riflette l'ombra misteriosa di tre persone!» «Cavoli, ma che rivincita! Questo è ardore giovanile!» «E pensare che ci si stava incamminando pian piano sulla strada della distruzione!» «In ogni caso, siccome sapevano, non potevamo certo lasciarli andare! Non restava che stirparli!» «Sono loro? Anche secondo me! Non possiamo indagare oltre sulla causa dell'epidemia! Se lei lo desidera, andrò subito ad annientare il villaggio e, prima che scogitano qualcosa, procederò con la vendetta!» «Subito? E ce la faresti?» «Non si preoccupi! È per questa situazione che ho fatto ricerche per tanti anni! Se possedessi il demone del vento e la forza degli shinobi d'acqua, non temerei gli shinobi del fuoco!» «E poi, se avessi questi poteri, parli dei poteri rubati dal villaggio del fuoco?» «Sì! Questo giro sterminerò gli shinobi del fuoco e offrirò tutto questo mondo a te, mio signore del paese d'inverno!» «Oh, che giri di parole! Oh mio Dio, guardate che faccia da psicopatico!» «Cosa?» «Senza che tu faccia questo, basta semplicemente uccidere il capo del villaggio del fuoco e il gioco è fatto!» «Senza un capo, il resta inutile! Se succedesse questo, il villaggio del fuoco sarebbe finito!» «Tuttavia, ha un successore, no?» «Il figlio del capo è morto nella scorsa battaglia e ho sentito che anche suo nipote è morto per quella malattia.» «Morto?» «Sembra che dovesse prendere il suo posto in successione per il suo prossimo compleanno, ma è successo l'irreparabile!» «Che roba!» «Tuttavia, sebbene sia vecchio, il capo del villaggio del fuoco si dice sia l'incarnazione di un demonio!» «Non è facile ucciderlo!» «Allora ho un'idea! Parla!» «Anche se l'incarnazione di un demonio è un essere umano con sentimenti, prenderemo la nipote in ostaggio e per proteggerla lo obbligheremo ad essere leale al villaggio del fuoco, così da poterlo usare!» «Dopodiché, basterà liberarsi di quel decrepito!» «Ho sentito che sua nipote è così incapace da far scandalizzare anche quelli del villaggio!» «Dunque, non pensi che come ostaggio avrebbe valore?» «Penso che sia tanto carina quanto incapace!» «Che sia una figlia in età da matrimonio la si ama a tal punto da essere la propria pupilla!» «Questo è quello che si dice essere padri!» «L'incapacità non è che incapacità!» «Usare sua nipote, eh?» «Male come idea!» «E poi non importa quanto sia incapaci!» «Le kunoichi...» «Kunoichi o kunoichi?» «Vabbè...» «Penso che si dica kunoichi!» «Di quel villaggio dovrebbero essere in grado di usare quel potere!» «E se dovesse diventare una minaccia!» «Basta schiacciarla alla fonte!» «Esatto! Se sembra inutilizzabile, usiamola!» «Risate basse e soffocate riecheggiano sul freddo muro!» «Poco dopo le luci si spengono e cala l'oscurità!» «Le tre ombre spariscono senza lasciare traccia!» «Mh!» «Nella profonda valle circondata dai monti vi è il villaggio degli Shinobi del fuoco!» «Vivere in un villaggio nascosto sono degli Shinobi, comporta senso del dovere e senso di umanità!» «In un mondo di pace dove era finita la guerra, la ragione d'essere del villaggio si trova al di là della storia!» «E lì il tempo di pace prosegue!» «O almeno era quello che avevo pensato fino a questo momento!» «Ho appena finito l'esercitazione pratica che faccio nella foresta di bambù, che si trova distaccata dal villaggio e come sempre mi avvio verso casa!» «È una notte nuvolosa e i dintorni vengono di tanto in tanto sommersi dall'oscurità e il boschetto di bambù che si allunga verso il cielo fa un suono malinconico!» «Non ci riesco proprio! Se continuo così mi prenderanno certo per stupida!» «Ah, ecco, noi siamo questa qui! Questa è la nostra protagonista!» «Mi asciugo il sudore sulla fronte e guardo verso la luna!» «Se non divento presto la nipote del capo, sia di nome sia di fatto, non posso restare sempre una bambina insulsa!» «Per questo ho fatto del quello che riesco a fare oggi, lo faccio oggi!» «Non sono un genio come mio padre e mio nonno, quindi non posso che oppormi in questo modo al destino!» «Poco prima di entrare al villaggio percepisco una presenza alcune, una presenza, alcune decine di passi dietro di me!» «Quella presenza mi sta inseguendo, mantenendo una certa distanza!» «Ma chi?» «Un freddo intento omicida che percepisco leggermente!» «Chi cammina senza far rumore non è un dilettante!» «Se va avanti così, non potrò tornare al villaggio!» «Aumento senza farlo capire la mia andatura e comincio a camminare nella direzione opposta al villaggio!» «Se ho capito, ma così tesoro mio ti metti nei casini!» «Vado verso le strade del villaggio, ma poi mi fiondo in una strada secondaria!» «Ho pensato per un istante di seminare così chi mi stava inseguendo, ma poi sento un rumore sulla testa!» «Mentre sollevo immediatamente il viso, tre ombre si allungano dal tetto. In questo istante mi copro gli occhi per una affolata di vento. Le nuvole si aprono facendo vedere la luna ed ecco che compaiono delle strane figure umane. E tutte e tre indossano una strana maschera.» «Una maschera?» «Mi ricordo delle dicerie che avevo sentito l'altro giorno e sento un brivido lungo la schiena. Un gruppo di assassini mascherati.» «È vera dunque quella diceria orribile?» «Tu sei la nipote del capo?» «Nel silenzio si sente una voce maschile atona. Io rimango zitta, ma mentre sto cercando di pensare a come crearmi un varco, l'uomo che ha parlato si cala dal tetto. Trattengo il fiato nel non vedere più vie di fuga.» «Cavoli, è veloce!» «Quando l'uomo estrae senza esitazione la spada, vi è un forte bagliore.» «Un fuoco si diffonde con un suono stridulo nella notte scura.» «Con il pugnale piccolo che ho potrei in qualche modo difendermi e mi volto indietro per fuggire. Ma... no, non ce la facciamo.» «Ai!» «La spada dell'uomo mi ferisce spietatamente il braccio.» «E sì che pensavo di averla schivata.» «Il sangue esce copiosamente e la mia voce esce per il dolore.» «È forte! Non sono proprio in grado di tenergli testa.» «Il pensiero della morte mi passa per la testa.» «Ci sono loro! Perché devo morire?» «Una marea di dubbi mi riempie la testa vuota.» «Sto per morire! Proprio in questo istante.» «Sora! Ehi, Sora!» «In quest'atmosfera così tesa, ecco che sento una voce familiare.» «Tocchi!» «Per la paura neanche un filo di voce mi esce dalla bocca.» «E inaspettatamente gli uomini si voltano di scatto.» «Spariti?» «Improvvisamente la loro presenza sparisce.» «Sembra che se ne siano andati.» «Ehi, è andata bene?» «Ma che diamine è successo?» «Mi sento le gambe deboli.» «Sora! Ma che fai lì seduta?» «Grazie Toki che sei arrivato in tempo!» «Perché sono quelli che ci facevano fuori.» «Tocchi corre da me con fare sospettoso e quando si accorge della ferita al mio braccio trattiene il fiato.» «Ma che è successo? Stai perdendo sangue dal braccio!» «Tocchi, adesso controllo che la loro presenza sia sparita e poi chiamo Toki con un cello della mano.» «E poi gli dico dell'assalto degli uomini mascherati di poco prima.» «Un gruppo mascherato?» «Ma come? La ferita? Solo al braccio?» «Sì.» «Completamente bianco e in volto, Toki mi afferra il braccio, ferito.» «E poi strappando un pezzo del suo vestito mi fascia il braccio.» «La ferita non sembra profonda, meno male che stai bene.» «Tocchi preme la fronte al dorso della mia mano e fa un profondo sospiro.» «Ti preoccupi troppo.» «Sora, la sai la storia del gruppo di uomini mascherati, no?» «Loro sono degli assassini.» «La diceria dice che i loro obiettivi vengono senza alcun dubbio uccisi.» «Certo che la conosco.» «Ma... gli uomini mascherati di prima sono quel gruppo di assassini?» «Se ci fossero altri aggressori mascherati sarebbe un problema.» «Beh, sì, lo so, ma...» «Ma se loro fossero stati davvero il gruppo di assassini mascherati, perché io?» «Non lo so. Ad ogni modo ora torniamo al villaggio. Dobbiamo subito dire cos'è successo.» «Riesci ad alzarti?» «Sì.» «Eh, vabbè, ma non l'hanno fatto in tempo, perché è arrivato Toki.» «Non appena arriviamo al villaggio, io e Toki andiamo subito a dire a mio nonno, il capo degli shinobi del fuoco, cos'è successo.» «Dopo di che nel villaggio è stato indetto subito un consiglio e il servizio segreto è stato subito allertato.» «Mentre percepisco qualcosa di inquietante. Aspetto l'esito del consiglio.» «Il giorno dopo, ascoltando quello che il servizio segreto gli sta riportando, il capo fa un profondo sospiro.» «Degli uomini sospetti hanno saputo di Sora e sono venuti a controllare, eh?» «L'altro giorno, il fatto che avessero attaccato la signorina Sora significa che stavano mirando ad una ragazza del villaggio del fuoco.» «Sembra che il volto e il nome della signorina Sora non siano stati ancora connessi.» «Esatto. Se così non fosse, non avrebbe certo senso venire a controllare.» «Qual è il loro obiettivo?» «L'obiettivo, eh?» «Di certo è una cosa insensata. Anche perché c'è il paese d'inverno dietro a questo.» «Secondo il rapporto, dietro il gruppo di uomini mascherati c'è il paese d'inverno.» «Cosa hanno intenzione di fare cercandomi?» «Se penso che l'intento omicida di quegli uomini mascherati era vero, l'obiettivo è senza dubbio radicale.» «Il paese d'inverno, eh?» «Le parole sussurrate dal capo cadono nel silenzio.» «Potrebbe anche essere che abbiano paura della nostra vendetta e hanno fatto trapelare l'impazienza.» «Inoltre, a coloro che hanno perso la memoria, rimane impresso un gruppo di assassini mascherati.» «Forse quel che è successo ora ha a che vedere con quel tabù di otto anni fa.» «Tabù.» «Osservo il volto del capo che è afflitto. Se non ricordo male, tabù di otto anni fa.» «Riguarda quella volta in cui è stato rubato il libro proibito, sigillato dal villaggio del fuoco.» «Da quella volta, il potere del paese d'inverno ha cominciato ad aumentare e la storia è cambiata.» «Sora, visto che tuttora non sappiamo bene quale sia il loro obiettivo, dovresti allontanarti dal villaggio.» «Aspetti, per favore! Mi scusi, ma solo perché sono stata assalita non devo essere rinchiusa solo io.» «Sora, sei la nipote del capo e un giorno prenderai il suo posto. Anche per il bene del villaggio, non possiamo certo perderti.» «Ma mi faccio vedere non d'accordo, ma il capo scuote il corpo e ride.» «Non sto mica dicendo che devi stare buona, ti sto dando una missione.» «Una missione.» «Mettreti nasconderai nella città-castello, andrai a raccogliere informazioni.» «Ad ora, nel paese d'estate, sta succedendo qualcosa.» «Proprio perché si tratta di te, riuscirai a reperire informazioni.» «Queste tue parole sono dolci come quando si parla ad un bambino.» «Ho più volte aperto e chiudo la bocca, ma poi, riluttante, abbasso la testa.» «Ho capito.» «Accetto ufficialmente questo incarico.» «Dopo essermine andata dal mezzo della discussione, mi dirigo subito alla mia stanza per fare i bagagli.» «Mio nonno ha detto così, ma mi ha semplicemente fatta scappare.» «Certo, proprio perché sono io riuscirò a reperire le informazioni.» «Ma le informazioni ottenute da me, che sono un ninja inferiore, quanto potranno essere utili.» «Non devo intimidirmi.» «Visto che ho accettato la missione, farò del mio meglio.» «Mi incoraggio e procedo in avanti.» «Sono sorpreso che tu cammini per il villaggio così spensierata.» «È stato in quel momento che mi vengono dette queste parole.» «Dopo tutto è la nipote del capo, che abbassi la cresta.» «E mi sussurra queste parole con un volume tale che le tentissi.» «Ma guardate un po', che poi non sa neanche usare la magia.» «È proprio inutile.» «Quando mi fermo mi giro e fulmino i due, shinobi, che se ne stanno andando via.» «Lo so benissimo che sono inutile.» «Mi trattano sempre così.» «Ma sarebbe una bugia se dicessi che non mi interessa.» «Ma ogni volta che me lo dicono mi ferisce.» «Sto giro vi farò vedere.» «Così, brava.» «Posso sempre piangere e deprimermi.» «Stringo i pugni e ricomincio a camminare.» «Ora farò solo quello che devo fare.» «Brava, brava, Sora.» «Così ti voglio, determinata e cattiva.» «Attacca tutti.» «Un paese coperto da neve e ghiaccio.» «Il paese d'inverno.» «Il villaggio dell'acqua si nasconde in quella vallata, in fondo alle montagne.» «L'obiettivo è scomparcio?» «L'uomo che sta ascoltando il rapporto del suo subordinato, che è appoggiato al bracciolo.» «Si agita, irritato.» «Sì, si tratta della nipote del capo del villaggio del fuoco, su cui c'è l'osine di arresto, ma...» «Da una settimana che non si vede più in giro.» «È sparita.» «Aspetta, ma se è sparita siamo sicuri che sia davvero sua nipote?» «Avevamo degli indizi, quindi non ci sono dubbi.» «Quindi, sebbene avevate degli indizi, è puggita.» «Anche loro sono shinobi.» «Non importa, però è una seccatura ora.» «Due settimane fa è stato ordinato dal paese d'inverno di catturare viva la nipote del capo del villaggio del fuoco.» «Quelli del paese d'inverno non sanno nulla degli shinobi.» «Anche se si prende in ostaggio la nipote, il capo potrebbe tranquillamente abbandonarla per difendere il villaggio.» «In questo caso, la prossima volta se la si costringe con la forza, non farà storie.» «Ridicolo.» «Sospirando, l'uomo si alza la frangia.» «Ecco perché volevo proporre un matrimonio politico e portarla qui.» «Dal momento che non abbiamo tempo di fare inutili guerre, anche se abbiamo intenzionalmente perseguito un piano per flacare il signore del paese d'inverno.» «Per colpa del fatto che quella donna ha fatto perdere le sue tracce, dobbiamo ricominciare tutto da capo.» «Che i ragazzi se ne fossero accorti? Non mi diranno mica.» «A differenza nostra, il paese d'inverno sembra manipolare il gruppo sconosciuto in modo indipendente.» «Si potrebbe anche pensare che sia un disastro, una cosa inutile.» «Che ne pensa?» «Non significa che sia morta.» «Allora continua a cercarla, ma se non la trovi andrò direttamente al villaggio per farmi dire dove ti trova.» «Quando sospira brevemente, l'uomo si inclina di nuovo sul bracciolo.» «Una missione che è già stata ufficializzata deve concludersi, nel bene o nel male.» «Questa è la legge e l'orgoglio degli shinobi d'acqua.» «Certamente.» «Lo sguardo acuto dei due si incrocia, e quando l'uomo sbatte una volta le palpebre, ecco che il sottoposto è sparito.» «Che ragazza impudente.» «L'uomo medita sulla ragazza del villaggio a cui è ostile, e i lati della sua bocca si alzano.» «Non pensare di scappare da me.» «Ma neanche ti conosce, bello mio.» «Cahahaha.» ectioner